L'ha preso ragazzi, l'ha preso, ha preso anche Pierre Gasly, dai Gabri. Andiamoci a prendere ancora un altro punto. Signore e signori, bentrovati in questo nuovo video, un nuovo episodio della nostra carriera in Red Bull con Gabriele Minis. Siamo ad Austin, turno 19 di questo mondiale. E già vedete che siamo nelle qualifiche, siamo nel prequalifica perché questo è Weekend Sprint. La penultima gara sprint dell'anno sarà qui ad Austin, poi ne avremo ancora un'altra ad Interlagos. E proprio queste gare sprint sono quelle che ci separano un po' anche dalla matematica certezza dei titoli, soprattutto quello piloti in realtà che è qui. Per cui manca veramente poco, mentre quello costruttore credo che ce lo giocheremo un po' di più fino alla fine. Non che sia particolarmente in bilico, però dovremo comunque difenderlo. Ma adesso concentriamoci sulle qualifiche per questa gara sprint statunitense. Ok, usciamo per l'ultimo tentativo. Si è lanciato adesso per Stap, perché comunque dovrebbe essere tranquillo. Si sta per lanciare anche Mini che parte adesso. Vediamo un po'. Si riesce a mettersi dentro. Sta arrivando adesso Mini che si mette davanti a Verstappen, ottimo. Siamo entrambi nel Q3. Via, usciamo adesso per l'ultimo tentativo del Q3. Attenzione anche al rischio pioggia. Dovremmo scamparlo, però occhio. Mancano due minuti alla fine della sessione. Bene, Verstappen ha anche la scia di piastri. Mini ha la scia di Verstappen, vediamo un po'. Eh, Mini perde un po' la scia perché rimane staccato. Arriva adesso davanti a tutti i Verstappen, quinto Mini che va anche bene. Poi scende in sesta perché gli si mette davanti il Sonoda. Comunque non è male, non è male anche la qualifica di Mini. E allora eccoci qui in griglia, pronti per questa gara sprint, penultima gara sprint della stagione qui ad Austin. Si parte in gomma gialla anche perché qui con la rossa non ce la si fa. Infatti credo che siamo tutti in gomma gialla, sì ovviamente. Vediamo un po'. Parte bene Max Verstappen che già curva 1 nettamente davanti. Andiamo a vedere anche Mini come se la sta cavando. Rimane in P6, con Sonoda lì davanti che attacca l'Eglerc e si infila davanti al Monegasco. Occhio anche dietro, Gabri. No, intanto Norris ha superato Verstappen, mentre Mini è ancora in P6. Scende adesso addirittura in P7 superato da Stroll, non un gran passo quello di Mini. Anzi sta quasi facendo da tappo lì dietro, sceso anche in ottava adesso. Mentre Verstappen si è ripreso la prima. Iniziano gli ultimi tre giri di questa gara sprint con Mini che sta faticando nel mantenere una posizione che sia valida per andare a punti. Adesso è ottavo, scende anche in nona, attenzione. Mentre davanti Verstappen se la sta giocando con le due Ferrari. Inizia adesso l'ultimo giro per Landon Norris, seguida la ruota proprio da Verstappen. Vai, dai tutto Max. Qui dai tutto. E andiamo a vedere anche Mini che in realtà ha davanti a sé... Chi è questo? Purcher? Sì è Purcher, intanto qui il sorpasso di Verstappen, addirittura lo Snake. Vediamo se lo chiude, attenzione perché ancora lì è all'esterno Norris che non molla. Alla fine la mette davanti Verstappen. Andiamo su Mini che ha superato intanto, credo, qualcuno perché ha... Eh sì, ha superato Guanio Gio, sì. Adesso va a cacciare Oscar Piastri, ma è lontano Piastri. Deve più che altro difendere questa posizione lui. Tanto occhio a Verstappen che è stato di nuovo superato da Landon Norris proprio nell'ultimo settore. E Norris va a vincere la gara sprint davanti a Max Verstappen. Vediamo se Mini almeno riesce a mantenere la posizione in queste ultime curve. Manca soltanto una curva. Aveva quasi recuperato anche Piastri che ha la gomma al 23%. Stava molto faticando il pilota australiano, ma alla fine Mini prende l'ultima posizione valida per i punti. Porta a casa un punticino. Però non ha il passo, è chiaro che non ha molto il passo. Allora, strategia uguale ma diversa nell'ordine delle gomme. Partiamo in gialla, poi bianca, poi rossa con Max. Rossa, gialla, bianca invece con Mini. Ed eccoci qui, è tutto pronto. Pole position per Landon Norris. Max Verstappen vicino a lui. Si spengono adesso i semafori, si parte. Mi sembra che sia scattato un po' rilento Landon Norris. Quanto meno dal punto di vista del tempo di reazione. L'ho visto esitare un attimino. Ma comunque parte bene. Attenzione c'è pure un contatto tra Verstappen che va a tamponare Leclerc. Tra Verstappen e Leclerc c'è stato un contattino con Verstappen che non è partito affatto bene. È già in terza posizione e deve guardarsi anche da quelli dietro adesso che stanno arrivando. Sono già scappate via le due Ferrari. Mini pure già scese in decima ragazzi. Partenza shock per le due Red Bull. Pessima veramente. Per quanto riguarda le gomme. Alcuni gialla, alcuni rossa. Staremo a vedere quale sarà la strategia migliore a fine gara. Tanto Mini scende addirittura in undicesima fuori dalla zona punti. Mentre Verstappen viene superato anche da Esteban Ocon. Stiamo soffrendo veramente tanto qui ad Austin. Ah, traiettoria larga di Mini. Attenzione. Speriamo non sia niente di particolarmente disastroso. No, va solo un po' largo ma non perde neanche troppo tempo. Mentre Verstappen è l'ingraggiato con Ocon. Virtual Safety Car, attenzione. Le due Ferrari sono volate via. Hanno 3 secondi e 3... No, 4 secondi e mezzo di vantaggio. Che è successo? Science incidente, non ci interessa. Andiamo a risparmio a sto punto. E sta per finire la virtual, finisce adesso. Tanto Mini superato anche da Gasly e Mick Schumacher. Adesso lo supera anche l'Oson. Veramente in enorme difficoltà Mini. Mini adesso si riprende la posizione sull'Oson. Però attenzione alla gomma perché sta per finire. Dovremmo andare ai box. Dobbiamo chiamarle ai box prima del previsto. Mentre intanto si è fermato le Clerc. Quindi Verstappen è salito in seconda posizione. Occhio alle strategie. Anche Mini si è fermato 2-3. Buona la sosta. Adesso rientra con gomma gialla. Il problema è che ha traffico. Ha traffico di Mick Schumacher. Dai, devi superarlo. Dai, devi superarlo. Ok, preso e superato. Bene, bene. No, è ripassato di nuovo. È ripassato di nuovo Schumacher. Allora c'è ancora lì davanti Mini. Il problema è che Schumacher fa un po' da tappo. Mentre Verstappen ha quasi recuperato Lando Norris. Mini adesso riesce a superare Schumacher. Attenzione perché Verstappen va ai box. Momento decisivo. Aveva preso Lando Norris ma adesso si ferma. Per la sua sosta monta gomma bianca. 2-1 la sosta è molto buona. Vediamo dove rientra Max Verstappen. C'è anche Rastell e Box. Forse rientra davanti a De Vries. No, transita De Vries. Rientra proprio dietro di lui. Quindi P6 per Verstappen. Siamo invece in P15 adesso con Mini. Anzi sarà in P14 perché c'è al buona i box. Sempre lì dal Mick Schumacher comunque. Adesso vediamo se Verstappen riesce anche un bel undercut su Norris. Non dobbiamo perdere troppo tempo qui con De Vries però. che nel tratto guidato fa un po' da tappo. Eh sì, purtroppo sì. Temmo che aver trovato De Vries possa vanificare le speranze di undercut. Si infila nell'ultima curva Verstappen ma comunque ha perso tempo anche per effettuare il sorpasso. E alla fine davanti a tutti c'è Leclerc che si era fermato per primo e ha fatto un mega undercut perché ha 10 secondi di vantaggio. 10 secondi di vantaggio su Verstappen che comunque ha fatto un altro mega undercut anche lui su Norris che adesso è dietro, è settimo. E ha, sì, circa 10 secondi di ritardo più o meno da un po' di meno, 7-8 da Verstappen. Mini è sempre lì, è ruota a ruota con Mick Schumacher se le stanno dando di santa ragione. Adesso Mini si libera finalmente di Mick Schumacher e va a prendere anche Albon e sta luttando con lui adesso per la tredicesima posizione. Mentre Max Verstappen è sempre più vicino a Schumacher che lo sta andando a prendere e gli sta così ridotto a 6 secondi e 7. Ma adesso è arrivato anche Zunoda che ha montato gomma rossa, si è messo davanti, anche Norris ha superato Verstappen. Adesso Verstappen si riprende la posizione su Lando Norris ma insomma lì sta di giro comunque totalmente diversa e bisognerà fare i conti dopo l'ultima sosta che andrà ad effettuare adesso Gabriele Mini. Ma dentro Mini 4 e 3 è la sosta il solito problema in box per Mini. Niente. Immagino che rientra e si rientra ampiamente dietro Mick Schumacher che però deve ancora fermarsi quindi magari che qui possiamo provare un po' di undercut. Tanto Verstappen si è messo in testa. Si è messo in testa mentre Mini sta lottando con De Vries per la tredicesima adesso passa anche Gasly, Albon insomma è in difficoltà Mini è molto in difficoltà molto lontano dalla zona punti. Arriva il momento della sosta anche per Max Verstappen non mi sbagliate pure questa 2-2 buona la sosta per Max che rientra quinto alle spalle di Norris però questi muovano fino in fondo attenzione è vero che è vero che Max ha gomma rossa però attenzione tanto Mini sorpasso ad Albon è sempre lì sempre in tredicesima è interessante adesso capire la gara di Verstappen che ha un trenino davanti formato da Norris con Sunoda ma poi c'è Leclerc che è molto più staccato deve liberarsi velocemente da questo traffico Max se vuole sperare di andare a prendere anche Leclerc lì davanti il problema è che non riesce a liberarsi con questo trenino di RS di questi tre quindi a rischio potrebbe essere addirittura il podio mentre Mini ragazzi gara molto deludente si trova a 8 secondi da Pierre Gasly quindi l'unica cosa che può fare è difendere questa tredicesima posizione che tanto non vale niente adesso Verstappen supera Sunoda supera anche Ocon rimane Lando Norris a fare da Scudiero a Leclerc che ha comunque 4 secondi di vantaggio vediamo se ne ha Verstappen per stapparsi da Norris e provare ad inseguire Leclerc probabilmente no perché rimane lì però stanno stanno recuperando entrambi in realtà su Leclerc attenzione un possibile arrivo in 3 attenzione adesso passa adesso passa Max adesso passa Max 3 giri al termine 2 secondi e 6 2 secondi e mezzo sta recuperando rapidamente su Leclerc diamogli un po' di boost vai vai Max vai 2 e 9 niente allunga però perché c'è Norris attaccato comunque gli dà un po' fastidio inizia l'ultimo giro inizia adesso l'ultimo giro per Max che si trova a 2 secondi e 3 da Leclerc ha fatto anche il giro veloce ma difficilmente andrà a prendere il monegasco occhio anche a Lando Norris piuttosto rimaniamo dunque su Max Verstappen che è portato ad un secondo e 5 è un secondo e 5 da Leclerc ma siamo all'ultimo settore qui ha messo di recuperare questo secondo e 3 che adesso manca ancora è veramente impossibile superare quindi probabilmente Max chiuderà in seconda posizione occhio di ero no ha staccato ormai Lando Norris peccato perché un altro giro e probabilmente probabilmente Max avrebbe preso guardate l'aveva preso e lì a mezzo secondo l'aveva preso finisce qui Leclerc va a vincere Verstappen secondo Norris terzo la Ferrari prende punti importanti eh mentre attendiamo adesso l'arrivo anche di Miniche comunque arriverà se va bene 13esimo e invece no si fa superare arriva 14esimo beffato da Lawson all'ultimo ma tanto poco cambia e dunque è una gara abbastanza amara questa bella Red Bull più che altro attenzione alla classifica costruttori ve l'ho detto eravamo avevamo un vantaggio importante ma lo stiamo lentamente dilapidando occhio perché c'è ancora un weekend sprint oltre a questo occhio perché ci sono i punti doppi ad Abu Dhabi anzi grazie che me l'avete ricordato nei commenti grazie mille occhio 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 perché in classifica costruttori i punti di vantaggio non sono più tantissimi sono neanche 40 sono 38 se ho fatto bene i conti rapidamente quindi occhio ora io come sapete sono tutto focalizzato sulla ricerca per la stagione successiva quindi non stiamo più sviluppando niente e vorrei non sviluppare più niente da qui a fine stagione dobbiamo farci bastare quello che abbiamo per difendere il primo posto in classifica costruttori solidi attenzioni tra Lambiase e Verstappen io direi di intervenire occhio al budget cap ragazzi perché siamo prossimi abbiamo un margine di spesa di 5 milioni da qui a fine stagione sono veramente pochi attenzione che vi ricordo non è soltanto una questione di budget cap ma anche quando lo superi poi non puoi più fare nulla quindi occhio e dunque eccoci qui all'autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico per il turno 20 di questo mondiale e colgo l'occasione per ricordarvi come sempre che potete abbonarvi quello che voleste quello che voleste supportare il mio lavoro qui su YouTube potete abbonarvi con 99 centesimi al mese meno di 12 euro per un anno intero è un piccolo caffè mensile che se volete potete offrirmi che mi aiuta tantissimo a portare avanti la gestione del canale a portare più contenuti a portare contenuti migliori in tal proposito voglio ringraziare gli ultimi che sono entrati a far parte del club degli abbonati che sono Luca Ardi che in realtà è già un bel po' ma io come sapete sono molto in ritardo con i ringraziamenti perché li accumulo registro molto in anticipo quindi arrivano in ritardo per questo ma arrivano per tutti tranquilli quindi grazie Luca e grazie anche ad Andrea Massetti anche lui nuovo abbonato poi c'è anche Andrea Cardone che si è riabbonato e che quindi monta gomma rossa grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti quelli che si erano già abbonati prima grazie a tutti coloro che decideranno di farlo da questo momento in poi detto questo attenzione pioggia leggera al sabato in qualifica occhio che non faccia brutti scherzi allora usciamo per l'ultimo tentativo del Q2 siamo con gomme intermedie perché sta piovendo attenzione mini rimane fuori no si si mette dentro si mette dentro all'ultimo mini meno male meno male si mette dentro in extremis buono portiamo entrambi i piloti al Q3 e adesso attenzione perché bisogna capire se la pioggia farà la sua comparsa sì quindi avremo un solo tentativo da fare subito perché poi arriva la pioggia quindi usciamo immediatamente tentativo unico per tutti si lanciano adesso le due Red Bull vediamo un po' arrivano overstap e mini ecco siamo già in seconda fila e probabilmente sì rimarranno così le cose seconda fila per le due Red Bull prima davanti a tutti c'è Leclerc e poi Tsunoda addirittura l'unica buona notizia è Lando Norris che si qualifica sesto strategia identica per i due piloti si parte in rossa poi gialla e poi rossa nel finale è tutto pronto qui a città del Messico splende il sole per questa gara domenicale in prima fila abbiamo appunto Leclerc e Yuki Tsunoda si spengono i semafori si parte credo tutti in gomma rossa quasi tutti in realtà c'è Guan Yu Jo con la bianca addirittura poi sono Purcher Magnussen e Tsunoda con la gialla Tsunoda infatti non benissimo viene subito attaccato da Verstappen che si mette per il momento mette il muso davanti vediamo chi esce davanti dalla Shikan eh all'interno Tsunoda però dovrebbe avere più trazione Verstappen e infatti infatti ne ha un po' di più in uscita mentre Minì eh Minì non benissimo non è partito bene si è fatto beffare da Guan Yu Jo che ha praticamente la gomma molto più dura della sua vabbè Verstappen continua a battagliare con Tsunoda che alla fine si mette davanti no attenzione perché Minì invece sta andando fortissimo addirittura ha preso e superato Verstappen grazie al DRS in questo momento abbiamo Minì terzo e Verstappen quarto ah è perché Verstappen era finito in accumulo ecco per quale motivo infatti mi sembrava strano vabbè comunque poco male adesso Verstappen si riprende la terza posizione e prova a lanciarsi all'inseguimento di Yuki Tsunoda mentre Leclerc è in solitaria al comando con 3 secondi di vantaggio proprio Superstappen che adesso prende e supera Tsunoda mentre Minì intanto è stato superato da Norris cavolo Gabri qui sarebbe importante che tu finissi davanti a Norris per la per la costruttori entrambi in gomma rossa bello del sorpasso di Norris che all'entrata dello stadio si mette davanti oh qui Minì ci riprova prova a rispondere però non c'è spazio eh Minì adesso crolla scende in sesta superato anche da Stroll e staccato da Lando Norris Norris che nel frattempo ha praticamente preso Zunoda i due Ferrari vanno veramente fortissimi in questo finale di stagione niente Minì scende addirittura in settima adesso allora attenzione perché questo è il giro della doppia sosta in box è già in pit lane Verstappen chiaramente più attardato Minì che sta flottando con Puccera adesso in bocca la pit lane anche lui 2-0 ottima la sosta di Max adesso speriamo che vada tutto bene anche per Minì montano con Maggiola entrambi 2-2 anche Minì buono allora in questo momento Verstappen è risalito in quarta ma i tre davanti a lui devono ancora fermarsi è rimasto solo Zunoda senza soste ma chiaramente adesso si dovrà fermare pure lui che era partito in hard ma era partito in media lui era partito in media si ferma adesso e viene addirittura preso quasi da Minì in questo momento quindi Leclerc davanti a Verstappen ma sono insieme intanto Minì segnala problemi all'herz e qui dovremo spendere un paio di milioni per comprargli un herz nuovo per questo finale di stagione e sappiamo che siamo già al limite col budget cap quindi sono 2 milioni che pesano tanto quelli che andremo a spendere probabilmente nella prossima gara attenzione perché a giudicare dal consumo della gomma credo che Leclerc sia su una sosta sola però non era partito in bianca quindi no allora signori ultima sosta in box attenzione sta entrando adesso Max Verstappen entrerà anche Minì che chiaramente è ancora a metà del tracciato si è fermato anche Leclerc attenzione attenzione perché esce davanti Max Verstappen anche se questo vuol dire poco e niente perché se la giocheranno in pista nel frattempo passa Lando Norris passa Tsunoda ma devono fermarsi entrambi e andiamo a seguire adesso anche la sosta sta per arrivare di Minì comunque 2-0 altra sosta ottima quella di Verstappen tra l'altro Verstappen e Leclerc stessa gomma adesso se la giocheranno proprio alla pari andiamo a vedere cosa combinano con Minì lungo 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 3-1 di nuovo lungo porca miseria porca miseria ne sbagliano una gara eh questo compromette un po' la gara di Minì che era tranquillamente in zona punti qui credo che dovrà giocarsela dovrà giocarsela con qualcuno lì per la zona punti vediamo se magari standosi fermato un po' prima riesce a fare qualche undercut e recuperare qualcosa si ferma adesso Norris che lascia dunque Verstappen e Leclerc da soli a giocarsi la vittoria di questo GP del Messico quando mancano 15 giri anzi in realtà ne mancano 17 per l'esattezza mentre Minì al momento è in 14esima posizione ma solo 2 piloti davanti a lui devono ancora fermarsi quindi in realtà Minì deve prendersene in pista le posizioni gli è costato veramente caro questo errore adesso sale in 13esima se la gioca con Piastri e lo supera sale in 12esima però è una gara veramente difficile quella di Minì che adesso deve recuperare 5 secondi a George Hustle e a Gasly per andarsi a giocare la zona punti negli ultimi giri ma non credo che ce la farà onestamente mentre se non altro Verstappen lì davanti ha staccato Leclerc c'è da sperare che anche Tsunoda riesca a chiudere sul podio e non farsi superare da Norris vediamo attenzione diverse auto coinvolte in un incidente che forse era davanti a Minì che è salito in 11esima questa è un'ottima notizia eh sì infatti erano Pierre Gasly e George Russell entrambi davanti a Minì quindi recupera così due posizioni e si trova a 3 secondi e mezzo da Russell che rappresenta la zona punti ma chiaramente procede molto lentamente eccolo lì l'avete visto a bordo pista lo supera adesso ed entra in zona punti Minì meno male meno male anche se è un punto non è che faccia la differenza però vabbè vediamo se riesce magari a recuperare anche Gasly in questi ultimi giri l'ha preso ragazzi l'ha preso l'ha preso anche Pierre Gasly dai Gabri andiamoci a prendere ancora un altro punto vabbè Pulcher più davanti è a 8 secondi quindi non è realisticamente raggiungibile deve assolutamente prendersi la P9 Minì ma mancano 6 giri a tutto il tempo per farlo lo fa adesso sta anche recuperando parecchio su Pulcher ma non credo che lo andrà a prendere perché Pulcher è veramente lontano mentre Verstappen se ne sta andando tranquillamente a vincere il Gran Premio 3 giri al termine stabile la situazione per quanto riguarda Minì e anche per Verstappen lì davanti inizia adesso l'ultimo giro di Max Verstappen e anche quello di Gabriele Minì adesso la cosa più interessante è capire chi tra Tsunoda e Norris andrà sul podio perché la lotta è lì Verstappen va a vincere andiamo a seguire proprio l'onboard di mamma mia di Norris guardate come è franco bollato all'ala posteriore di Tsunoda dobbiamo sperare che almeno Tsunoda riesca a chiudere sul podio per togliere qualche punto alla Ferrari intanto Leclerc è arrivato secondo attenzione qui all'uscita dal rettilineo dovrebbe farcela dovrebbe farcela c'è la Fatsunoda a chiudere sul podio davanti a Norris e Minì che chiuderà se tutto va bene in 9 infatti eccolo qui ed è una vittoria importantissima questa di Verstappen perché stiamo comunque perdendo punti rispetto a Ferrari ma l'importante è perderli il più lentamente possibili e in questo avere Yuki Tsunoda sul podio aiuta non poco due punticini ci riporta anche Gabriele Minì che oggi onestamente non poteva fare di più e alla fine vedete che Ferrari nel complesso del weekend ci guadagna solo 3 punti quindi va più che bene e sembra una stupidaggine ma anche quei due punticini conquistati da Minì aiutano in questa fase o intanto ci dicono che nonostante il nostro intervento i rapporti tra Max e Lambiase non sono migliorati il risultato di questa scaramuccia è che l'affinità tra Lambiase e Verstappen è peggiorata e vabbè ce ne faremo una ragione e signori ci fermiamo qui alla vigilia del Gran Premio del Brasile di Interlagos che sarà l'ultimo weekend sprint di questa stagione weekend sprint che sono sempre molto temibili perché è un'occasione per Ferrari che adesso è chiaramente più forte per prenderci più punti del solito quindi bisogna fare molta attenzione e visto che mancano 3 Gran Premio alla fine della stagione io credo che il prossimo episodio sarà quello conclusivo faremo un episodio un po' più lungo con 3 gare anziché 2 quindi sarà un bel video corposo e sarà il Gran Finale di questa stagione 2028 che come abbiamo visto ancora qualcosina in ballo ce l'ha perché la classifica costruttori è sempre lì un po' in bilico o meglio per il momento non è in bilico però in prospettiva se pensiamo che c'è ancora un weekend sprint e soprattutto la gara di Abu Dhabi con i doppi punti eh la Ferrari può farci molto male quindi bisogna mettercela tutta servirà anche l'apporto di Gabriele Mini ma di tutto questo ore 12 come sempre qui sul canale mi raccomando il pollicione in su se l'avete apprezzato e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ma ovviamente arrivati a questo punto immagino che lo avrete fatto eh grazie a tutti per la visione ci vediamo alla prossima un saluto ciao